Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessiland News, un Tessiland News speciale dove vi presenteremo un filato di altissima qualità 100% made in Italy, ma prima ho qualcosa da ricordarvi. Il catalogo Tessiland si arricchisce di un filato che è davvero una perla nel campo dei filati pregiati. Grazie alla sua composizione e grazie alla particolare lavorazione soffiata, il filato Moby vi permetterà di creare dei capi unici nel loro genere. Ed ecco qui il nostro Moby, conosciamolo un po' meglio, si tratta di un filato pregiato composto al 15% di alpaca superfine che ne garantisce la morbidezza e la leggerezza. Abbiamo poi un 15% di lana Merinos che permette la termoregolazione naturale e per concludere il 70% di cotone che ne garantisce comfort e resistenza. Si tratta di un filato soffilo 100% naturale, questo vuol dire che è un filato che ha una particolare lavorazione, è un filato soffiato. È infatti caratterizzato da una struttura davvero unica, l'anima interna è composta da fibre pregiate e viene soffiata all'interno di quella che è una gabbia in cotone. Questa tecnica di lavorazione conferisce a questo filato le sue principali caratteristiche che sono quindi la leggerezza, voluminosità e ma soprattutto anche resistenza. Quindi un filato pregiato che si presta bene sia alla lavorazione ad uncinetto, per la quale consigliamo quelli tra il 5 e il 7, ma anche alla lavorazione con i ferri, per i quali consigliamo quelli tra il 6 e l'8, ma si presta bene anche alla lavorazione con ferri circolari. Per quanto riguarda la manutenzione invece per preservare la qualità e la bellezza del filato consigliamo un lavaggio a mano con acqua che non superi i 30 gradi. Per l'asciugatura consigliamo di stendere il capo su un ripiano e di tenerlo lontano da fonti di calore. Sconsigliamo quindi l'utilizzo dell'asciugatrice ma anche del ferro da stiro. Passiamo ora a scoprire tutte le colorazioni. Quella che stiamo vedendo è un fantastico colore ruggine, un colore magari un po' autunnale che si abbina bene anche al borgogna. Passiamo poi a due colori più classici, quindi il perla ed il nero. Per chi ama invece colori tenui troviamo le cru ed il salvia. E per concludere il colore jeans e cipria. Grazie al suo effetto caratteristico di tridimensionalità che è dovuto proprio alla sua particolare costruzione, si adatta benissimo anche all'utilizzo per coloro che sono alle prime armi. Con questo filato sarà infatti facile creare dei maglioncini, delle calde sciarpe e avvolgenti, cappellini o cardigan. Per valorizzare al meglio il filato vi consigliamo punti voluminosi e ben definiti. Quindi un filato tutto da scoprire ma soprattutto da provare. Non dimenticate quindi di condividere con noi tutte le vostre creazioni. Potrete farlo taggando la pagina Facebook Meglio di Maya oppure iscrivendovi al nostro gruppo ufficiale Tessiland. Ma anche su TikTok, Pinterest, Instagram. E non dimenticate di seguirci sul nostro blog. Io vi aspetto al prossimo Tessiland News. Ciao! Ciao!